I baronisti hanno una grande storia democratica e immaginare che su quel palazzo ci debba essere non solo la bandiera di baronisti e la bandiera d'Italia o d'Europa, ma la bandiera dell'Utri e Scaiola mi ripugna, mi ripugna, per la dignità di baronisti, per la dignità di baronisti, per la storia di baronisti, per la storia dei militanti di baronisti, togliamo con la bandiera, lasciamo solo la bandiera italiana, è quella del comune.